Per adesso è uscito il primo numero che trovate sul sito della rivista che è europeanleftmagazine.eu e sul sito avete le tre versioni inglese, francese e spagnolo. Il primo numero è stato su cambiare il mondo all'epoca del coronavirus e adesso stiamo preparando il secondo numero che è su proposte per una nuova Europa. Qual è l'obiettivo che ci siamo dati facendo questa rivista? Innanzitutto è quello di costruire uno spazio pubblico di discussione. Anche nel partito della sinistra europea e tanto più al di fuori del partito della sinistra europea sono pochi i momenti di confronto effettivo e di discussione vera sulle questioni di fondo. In Europa non esiste un'opinione pubblica che si formi a livello europeo. Ci sono le dinamiche nazionali ma non c'è una dinamica vera e propria di discussione europea. Allora l'idea che abbiamo avuto con questa rivista è di provare a costruire uno spazio pubblico europeo, direttamente europeo, in cui noi invitiamo tutti i numeri a partecipare e a discutere tutti i rappresentanti dei partiti che compongono il partito della sinistra europea, i 25 partiti che sono membri del partito della sinistra europea, e poi in ogni numero invitiamo a intervenire compagni e compagne dei movimenti sociali, delle associazioni, di altre organizzazioni intellettuali che riflettono sui temi che mettiamo al centro della discussione. Quindi la nostra idea è di avere una rivista di partito, del partito della sinistra europea, che però non sia chiusa, non sia l'organo del partito, ma che sia una rivista di partito che serve a far discutere tutta l'area della sinistra di alternativa, perché noi pensiamo che bisogna raggruppare sia le forze, le culture, le organizzazioni di tutta l'area della sinistra di alternativa per costruire un'alternativa in Europa, un'alternativa alle politiche liberiste e un'alternativa alle destre estreme che caratterizzano la situazione attuale dell'Europa. Quindi abbiamo messo in piedi questa rivista, vi invitiamo ad andarla a vedere, a leggerla, a scaricarla, a dirci cosa ne pensate, perché per adesso abbiamo deciso di fare due numeri della rivista e poi di fare una valutazione. E quindi sarà molto utile sapere il vostro parere di tutti coloro che nei diversi paesi la possono leggere in modo da sapere come migliorare, da sapere se pensate che questa rivista possa essere effettivamente utile, possa svolgere il ruolo che noi le affidiamo oppure no. Quindi questa è la sostanza. Pensiamo che in questa Europa ci sia da costruire le lotte sociali, ci sia da costruire le lotte politiche, ma sia anche importantissimo costruire una battaglia politico-culturale, perché l'Europa senza cultura non esiste. L'Europa senza cultura è uno spazio geografico, è uno spazio di mercato, ma non è un vero continente che produce un avanzamento sociale. In questo senso la rivista vuole anche essere un contributo per una costruzione di un'Europa che sia un'Europa di pace, che sia un'Europa sociale, che sia un'Europa egualitaria, che sia un'Europa che lavora per non distruggere l'ambiente, l'habitat in cui viviamo. E quindi l'idea è appunto avere una rivista che sia una rivista di incontro, di discussione, di dialogo, ma anche di elaborazione di una prospettiva per una sinistra che voglia cambiare le cose in questo nostro continente. Di questa rivista è fatta, soprattutto, diciamo, è fatta concretamente da una redazione, li voglio nominare, i compagni e le compagne di questa redazione, c'è Walter Bayer, Luis Fazenda, Pierre Laurent, Jean-Pierre Michels, Anna Miccola, Margarita Mileva e Natasha, che parlerà dopo di me, che è qui in questa presentazione della rivista. E assieme a questa redazione c'è Giorgio Riolo, che ringrazio moltissimo, che è il caporedattore, che è quello che fa il lavoro materiale più rilevante per mettere insieme alla rivista. Quindi grazie a tutti loro che sono la redazione che costruisce la rivista e che poi sono aiutati da Daniele Brunetto, che lavora agli uffici di Bruxelles, che ci fa da ufficio di segreteria, da Davide Leoni, che ha fatto la copertina, da Elena Coperchini e da Dario Marini Ricci, che fanno la messa in pagina, l'impaginazione della rivista. Questa è l'equip editoriale e concreta tecnica che fa la rivista e che voglio ringraziare, senza di loro non sarebbe possibile, e voglio ringraziare il Partito della Sinistra Europea che ha accettato il progetto di fare la rivista e che ha nominato pro tempo e sottoscritto come direttore. Finisco questa breve introduzione e poi darò la parola a Natascha prima di dare la parola a Heinz Birbaum, che è il nostro presidente del Partito della Sinistra Europea, che chiuderà questa breve presentazione. Dicevo, voglio chiudere questo mio breve intervento con due cose. Una è una richiesta. La nostra rivista, per chi l'ha vista, per chi l'ha letta, è impaginata in modo molto semplice. È una rivista povera, non è una rivista articolata, non ha foto, è una rivista in cui c'è solo dello scritto. Allora abbiamo pensato che sarebbe utile, sia per un elemento di contenuti, di qualità della rivista, sia per un elemento di qualità grafica e di leggibilità, di visibilità, di estetica della rivista, avere anche un vostro contributo dal punto di vista dei disegni, delle vignette, delle caricature, dei segni grafici, e cioè di avere nella rivista, oltre che i testi degli articoli di chi scrive, anche di avere delle grafiche. Dietro alle mie spalle potete vedere uno splendido disegno fatto da un giovane compagno croato di Karl Marx. Io penso che tra i compagni e le compagne del Partito della Sinistra Europea ci siano tantissimi artisti e saremmo molto contenti se ci poteste inviare alla mail della rivista che trovate sul sito i vostri contributi in modo che possiamo rendere migliore la rivista sul piano estetico e più articolata dal punto di vista della sua costruzione, non solo parole, ma anche il disegno, anche la capacità grafica. E ultima, ultimissima cosa, ho detto che la rivista oggi esce in spagnolo, inglese e francese, è già molto buona ed è molto difficile fare la rivista in tre lingue. Lasciatemi dire che ho un sogno che è quello di poter fare la rivista, oltre che in spagnolo, francese e inglese, anche in russo, tedesco e italiano, perché se riuscissimo a fare questo, non dico che avremmo fatto una rivista che copre tutte le lingue europee, non è così, ma certo faremmo un contributo rilevante a rendere questa rivista non solo una rivista per chi conosce le lingue, ma un po' per tutti coloro che partecipano alla vita politica della sinistra europea. E quindi chiudo questa brevissima presentazione e do la parola a Natascia, ringraziandovi. Se volete andare sul sito European Left Magazine e lì trovate la rivista che potete scaricare, stampare, se volete leggere. Grazie a tutte e tutte e la parola a Natascia. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti e ho spero che la parola a Natascia europea e ho spero che dovrò continuare a continuare la rivista. In questo caso, credo e sono sicura che ci potete anche inserire una prossima edizione sulle questione feminista e dei droghi dei femmes, perché è un tema molto importante. e d'ailleurs noi abbiamo molti di camarada che sarebbero interessati e che potrebbero contribuire a questo tema ma di tutte le faccio io sarei molto breve e io vorrei più o meno aggiungere un punto che mi sembra importante e sul quale la contribuzione del magazin mi sembra molto importante voi sapete che il dialogo permanente tra le forze progressiste politiche, sindicale e sociale visando il cambiamento dei rapporti di forze in Europa resta un grande défi per il partito dell'agosso europeo e al Congresso di Berlin in 2016 abbiamo deciso di adorare tutte le forze progressiste in Europa e propone la structurazione di un spazio politiche di convergenza che potrebbero raggiungere tutte le forze politiche sociale sindicale intellettuale associative che cercano di voce di sorti di crisi per il progresso e su di questa l'initiative è il forum politico europeo di forze di giovani veri e progressisti che si stanno tutti gli anni da più il terreno è il mio migliore della pandemia sotto formato virtù e a travers diversi debati diversi forze insieme noi abbiamo potuto trater le conseguenze sociale economiche e altre di pandemia che tutti non solo l'Europa ma il mondo l'experienza per il funzionamento del forum è molto positivo fino a ora ma ma perché i problemi sono così grave e il dialogo non deve non 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 limiti a riunione di foro il è necessario di prendere delle initiazioni comuni e poter trovare d'autres moyens di comunicazione, per poter approfondire i diversi aspetti che ci preoccupano, a ciò che ci preoccupano l'avenir dell'Europa e, perché non, del mondo entro. A mio avviso, con il lancio del magasino di questioni, il Partito della Coste europea offre un nuovo instrumento di comunicazione del dialogo delle pazienti progressissime in Europa, perché givingono la possibilità di approfondire con il soggeto per il soggeto e permettendo anche ai parti che i individui, di posare chiaramente le loro posizioni, le loro proposo e i loro dubbi, on sait qu'il concerne les différents sujets et les différents problèmes pour construire une alternative progressiste et solide qui pourrait répondre aux besoins et perspectives des citoyens européens nous devons travailler sur l'unité de toutes les forces progressistes qui luttent contre la politique néolibérale mais nous ne pourrons pas l'obtenir si on ne connait pas très bien quels sont les points qui nous émis et quels sont lesquels nous diffèrent parce qu'on peut mettre ce qui nous diffère à côté à condition qu'on connait bien comment on peut travailler ensemble et pourquoi on doit travailler ensemble pour moi c'est un point très important parce que le PGE a beaucoup travaillé pour appuyer l'idée du forum politique en Europe et à travers les magazines offre aussi une autre possibilité de confrontation de propositions des idées pas seulement à ses membres mais aussi à ses amis et aux camarades d'autres familles politiques qui voudraient y participer et ça c'est très important parce que la période que nous vivons est très difficile et on ne sait pas comment sera vraiment disons si l'avenir sera mieux mais hier qu'est-ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant et la cause et les forces progressives devraient jouer un rôle très important et protagoniste merci et je souhaite de continuer de ne pas s'arrêter la parole à d'Ainz Birbbaum il nostro presidente Bergo Heinz merci beaucoup d'abord j'aimerais vous remercier Paulo d'avoir pris cette initiative pour lancer cette magazine c'était vraiment un challenge but I think the first number turned out very well it was dedicated to the pandemic situation and the consequences for the society in particular for the workers and we have in this number different we have a different situation in the different countries and therefore I think it turned really out very well we have in it also the initiative of the campaign no profit on pandemic I think that's very very important and the second number will be dedicated to the future of Europe and as Natasha said and I agree the magazine is really a platform for the political dialogue not only concerning the members and observer parties of the European left but the entire left the entire European left and all the progressive ecological and left forces in Europe and therefore we hope for the participation of all politicians of the different families and intellectuals and Natasha referred to the European Forum and I think the magazine is a little bit a completion of the European Forum because it's a platform for a very broad dialogue between the different political forces the different progressive ecological and left forces and I think we are in a really very difficult situation concerning the challenges we are facing and now we have the pandemic situation and Europe is still in the shock of the pandemic situation and we as European left launched also a platform how to come out socially of this crisis and we want to have that every effort must be made to protect the people and therefore we demanded for example we requested a European health fund and to improve also the healthcare system but we need also another economic policy towards social ecological transformation and I think in this direction we should open a debate concerning the social ecological transformation it's very crucial and I think it's very good to have the next number of the magazine dedicated to the future of Europe because now from the European institutions is launched a conference on the future of Europe it started with a joint declaration and it will be opened on the 9th of May after the social summit which will take place from 6th to the 8th of May in Porto and I think it's a very good opportunity for the left to be visible to present their own vision of the future of Europe a more social more democratic more ecological more peaceful Europe and I think the magazine is really a platform for this debate and I think we need that and I think to have launched this magazine it's a step forward and it helps to make the left more visible and as Paulo said we could of course improve also the magazine but I think the first number is really a success and I think we will continue and it's a very good initiative and all are invited to participate in this magazine to come up with own articles texts and so on and as I said it at the beginning not only the members and observer parties of the European left but the entire left and all the progressive ecological and left forces in Europe and they are all invited to participate because I think this magazine is a very good platform for the political dialogue we need thank you very much general to do delle presentazioni riferite ad ogni singolo paese in modo da poter far incontrare questa rivista europea con la realtà dei compagni e delle compagne che lavorano nei paesi e è sempre difficile riuscire a fare incrociare il terreno locale con quello nazionale con quello europeo vorremmo provarci finisco nel salutarvi solo con una ultima cosa il titolo della rivista è un titolo un po' strano si chiama questioni che è una parola che usava Antonio Gramsci che abbiamo messo stilizzato nella copertina della rivista ed è una parola che non esiste nell'italiano moderno perché nell'italiano moderno si dice questioni invece lui usava questioni con la i in qualche modo allude a tutti i problemi che abbiamo la rivista vuole essere uno strumento per discutere dei problemi che abbiamo e cercare di costruire insieme come avete sentito delle risposte da sinistra e allude anche al fatto che questo non può avvenire in una lingua sola ma in realtà può avvenire solo dentro questo concerto più largo che sono tutte le lingue dei paesi europei quindi era difficile pensare un titolo per una rivista europea abbiamo scelto la parola di un grande rivoluzionario che paradossalmente non è di nessuna lingua ma è una parola diciamo che non esiste su un vocabolario però allude al problema che abbiamo che è di affrontare i problemi della vita delle persone e di provare a spostarli davanti grazie ancora per la vostra partecipazione e la vostra attenzione e mi raccomando leggete questioni buona serata tuttietud grazie a tutti